Quando facciamo il chirichetto aiutavamo San Cristano, Tommasino a suonare le campane erano ragazzini, allora quando dovevamo tenerla perché sbagliavamo la nota non ce la facevamo perché il campanone si salta tuttale, si tiravamo sulla corda e poi stavamo la testa sotto il soffitto è vero, è vero perché lui diceva lascia la prima, lascia la seconda, si tessa la porta, si suonava la campana tre volte prima di metterla la prima volta la testa, la seconda volta un po' meglio la testa è molto male faccivi scorrere un po' la corda perché c'è una corda così, adesso è una lita che provo con alcuno elettrico, allora è così